In fila un po' di cose. L'EMA domani decide sul vaccino AstraZeneca, che per noi era la grande opportunità, nel senso che si diceva, è quella su cui l'Italia ha puntato, è fatto a latina, oltre che inglese e italiano, tutto il resto. Però, come diceva nel telegiornale la mia collega Adriana Bellini, Boris Johnson si mette di traverso. Abbiamo questa sensazione un po' ormai fastidiosa e inquietante, che ci sono altri paesi che corrono e noi che arranchiamo. Cosa sta capitando a suo parere? Ma forse non sono una persona giusta a cui chiederlo, nel senso che anche lì non era difficile essere profeti di, non di sventure, ma di difficoltà. Quando si diceva quest'estate arriverà il vaccino e quando ce l'avremo... Professore, professore, veramente sono mortificata di interromperla, ma c'ho la pattuglia dei responsabili che sta parlando al Quirinale. Il senatore Merlo, devo un attimo ascoltarlo, solo due minuti. Damanti i responsabili, ma rendo. Dire che il nostro gruppo non è un gruppo che vuole...